ciao capricorno benvenuto nel tuo oroscopo del mese di dicembre 2022 oroscopo che andremo ovviamente a leggere con l'astrologia vedremo qui grazie alle mie efemeridi vedremo un po le stelle gli astri come si muoveranno nel mese di dicembre e quindi cosa ti promettono cosa ti porteranno dopodiché interroghiamo anche i tarocchi per scendere un pochino più nel dettaglio questo video vale se il sole luna venero ascendente in questo segno zodiacale va bene allora capricorno come transiti quelli in cui miscicade più l'occhio sono sicuramente urano nettuno flusone quindi i pianeti lenti sono tutti positivi per te molto pesante questo flusone in capricorno ma non nel senso attivo pesante pesante non è l'aggettivo corretto direi profondo questo flusone in capricorno quindi hai lì sopra io sono sicura che molti capricorni in questi anni si stanno veramente sentendo dentro mi viene da dire neanche guardando dentro sentendo dentro ma detto questo noi rimaniamo un pochino più light un pochino più così dunque dicembre i transiti ti stavo dicendo in cui mi cade più l'occhio sono sicuramente l'entrata in capricorno quindi l'entrata sul tuo sole o sul tuo ascendente se sei un ascendente capricorno del sole quindi auguri a molti capricorno che compieranno gli anni in questo mese di dicembre l'entrata del sole di mercurio e di venere questi tre pianeti stanno camminando cammineranno insieme nel tuo segno zodiacale questo cosa ci dice messo naturalmente insieme 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 a tutto non ci dimentichiamo anche giove giove che aveva già fatto la sua entrata in ariete e quindi magari ti poteva aver portato un qualche fastidio ma è tornato indietro e camminerà ancora nel mese di dicembre indietro dicevo nel segno dei pesci pesci che sono un segno a te amico quindi senz'altro una qualche novia una qualche bega un qualcosa di un po antipatico che potrebbe essere terminato nel mese di di novembre magari arrivato alla sua conclusione te lo sei tolto di mezzo e se non l'hai fatto lo farai nel mese di dicembre ma nel senso positivo è nel senso a te favorevole al tuo segno zodiacale comunque sia dicevamo questo giove in pesci quindi io ti prego ti invito a sfruttare saper usare sfruttare al meglio questi transiti durante il mese di di dicembre un giove fantastico se stile al tuo sole al tuo segno zodiacale è una congiunzione appunto come dicevamo del sole di venere di mercurio tutti questi transiti cosa mi dicono sicuramente nuove amicizie nuove amicizie se non ne fai di nuovo delle nuove di nuove sicuramente tutti potrai godere in modo proprio molto positivo molto bello anche affettuosamente direi ti puoi godere le vecchie amicizie ma anche un fratello una sorella un cugino una cugina parenti odio effettivamente dicembre è il mese no un po della famiglia il natale tutto quindi ci sta quindi vedo proprio proprio questo ma anche negli spostamenti qui tu ti puoi regare da qualche parte o in compagnia di queste persone come ti stavo dicendo o forse proprio per andare da queste persone o queste persone per venire da te non lo posso escludere visto che qui stiamo parlando molto molto in generale quindi capricorno un mese molto favorevole sicuramente c'è ancora un qualcosina diciamo per quanto riguarda il denaro qui c'hai una qualche questione vecchia magari proprio in ballo per motivi di denaro diciamo un qualche pensiero ma mettiamola così un qualche pensiero non so per un immobile o più di uno è per degli immobili o per dei denari insomma qui c'è però insomma qui con tutte ste benedizioni a cominciare da giove che è tornato indietro e che cammina almeno fino a prima di natale cammina nel segno dei pesci insomma ti danno diciamo una seconda possibilità diciamo un atto secondo un secondo tempo per poter risolvere questa piccola bega che tu avevi anche nei mesi passati quindi questa è una e poi come ti stavo dicendo questa venere questo mercurio in capricorno guarda non escludo affatto che tu possa rivedere risentire vecchi amici magari forse proprio della sua infanzia se non sono della sua infanzia sono sicuramente del tuo del tuo passato qui ci potrebbe essere anche perché no una cura del corpo quindi magari una cura decongestionante o non so recarti insomma parte berti anche del buon vino perché capricorno il vino piace assai quindi attenzione capito ma anche proprio la gola attenzione allo stomaco è capricorno comunque andiamo a vedere abbiamo visto un pochino le stelle in grandi linee poi adesso farò l'oroscopo 2023 mi ci soffermerò di più andiamo a vedere le carte che cosa vedono per te capricorno mese di dicembre 2022 ok ne prendo una eccolo il mediatore poi ho visto anche lo studente vedi o mamma e ormai l'ho visti accidenti ma sono troppe carte bambini non volevo tutte va bene tiro meno delle altre e stop andiamo andiamo un po a vedere cosa ci dicono queste carte ma guarda capricorno qui potresti vera guarda il gentiluomo i pesci e il gentiluomo troppe troppe carte comunque non importa qui durante il mese di dicembre non lo posso troppo escludere qui ti posso vedere studiare perché mi fanno vedere proprio lo scrivacchino come si dice no lo scrivere vedi qui c'è qualcuno che scrive una qualche informazione butta giù prende degli appunti no e scrive si appunta ciò che impara e qui fanno vedere lo studente no lo studiare e leggere ok l'umiltà e la devozione al conoscere alla conoscenza quindi qui stiamo imparando quindi qualcosa sicuramente di nuovo è il mediatore ok il mediatore ma guarda qui letteralmente veramente magari tu stai mediando con qualcuno o tu sei proprio se questo mediatore che tu potresti aiutare un qualcuno a vermi fuori da una diatriba di un qualche tipo guarda la tavola e il pianeta avviene ora la tavola cerca magari di stare di stare attento nel mese di dicembre andiamo andiamo un po a vedere dove la possiamo no mettiamola qua mettiamola qua andiamo avanti mese di dicembre 2022 per il capricorno come sarà il mese di dicembre per il capricorno la strada e andiamo a vedere come sarà il mese di dicembre 2022 per il segno zodiacale del capricorno ma vabbè adesso ve lo dico però io non so perché ma qui vedo anche un personaggio o mamma a parte questa carta è un è un quadro è al di là di questi due di coppe qui ci sono tutti questi puttini guarda io non escludo neppure l'amore qui ci potrebbe essere qualcuno che veramente potrebbe farci la la corte in questo mese di dicembre capricorno andiamo a vedere o magari tu siete semplicemente innamorato e innamorata o molto attratta voglio tirare infine i tarocchi non che questo non lo sia ma tarocchini vediamo come sarà come trascorreranno il mese di dicembre 2022 il capricorno vediamo sono piccoline e mi volano allora messe di dicembre per il segno zodiacale del capricorno ok il 3 di denari vedi e il 7 di denari guarda guarda capricorno qui c'è un colloquio se tu hai studiato se hai studiato qualcosa se hai fatto un corso hai seguito un corso se stai studiando se hai studiato insomma se hai fatto un corso per un qualche cosa qui c'è la comunicazione vieni vieni chiamato e vieni chiamato qui c'è un esame forse questo scrivacchino questo scrivere potrebbe essere proprio l'esame che tu hai fatto o che magari tu devi ancora fare può succedere tutto in dicembre io questo non non lo so qui mi fanno vedere un esame una scrittura magari un esame scritto un concorso che tu hai fatto che tu sta facendo tu dovrà fare ok e la chiamata la chiamata perché qui c'è proprio la ci sono proprio le trattative ci sono proprio le trattative per un futuro quindi qui non escludo affatto vedi è come se qui qualcuno ti avesse preso ti stesse prendendo le misure in poche parole per poi dover colloquiare dover trattare con te su qualche cosa ma siccome qui c'è molta venere qui c'è il 2 di coppe e c'è abbiamo detto la tavola venere qui sembrerebbe proprio che tu venga chiamato che tu venga chiamato per portare avanti questo discorso in poche parole potresti veramente aver superato un concorso magari per la scuola tu devi insegnare oppure tu sei te lo studente capito che tu hai imparato qualcosa o che tu devi imparare in dicembre è passato presente insomma io ti spiego la la situazione vedete a che punto tu sei in questo momento ok per entrare nella scuola forse proprio o come mediatore o come insegnante ok è una cosa guarda qui c'è quest'uomo con questo canocchiale come dire è una cosa che sta arrivando sta arrivando è proprio vicina tu ci sei tu ci sei quasi e non escludo siccome qui ci fanno vedere proprio venere e siccome abbiamo visto dall'astrologia che venere sta arrivando sul tuo cielo guarda guarda come come parlano sta arrivando in capricorno io non escludo affatto come ti ho detto ok che prima di natale quando venere arriverà sul tuo sole dipende da che giorno sei nato quindi per ogni capricorno sarà un giorno diverso a secondo della tua nascita quando venere dicevo arriverà sul tuo sole lì può arrivare questa comunicazione questa soddisfazione qui ci sono delle emozioni proprio molto molto forti io vedo molto la scuola la scuola o comunque lo studio qui di mezzo il due di coppe mi parla proprio vedi qui è un qualcosa che senz'altro ti piace ti piacerà per cui hai amore e vi andare quindi magari un qualcosa che hai fatto proprio con il cuore ed è un qualcosa che qui è in arrivo quindi comunicazioni in arrivo nel mese di nel mese di dicembre se questo non ti dice nulla magari ci parlano di un figlio cioè io qui vedo uno studente qui c'è uno studiare se non tu sei te magari è proprio tuo figlio essendoci no lo studente la persona che che studia non solo qui posso vedere se è il tuo caso ovviamente delle novità che ci possono arrivare delle comunicazioni delle novità che ci possono arrivare appunto se stiamo mediando con qualcuno su un qualcosa se abbiamo non voglio dire una causa ma insomma un qualcosa di questo tipo in ballo anche di questo le carte ci possono parlare io vedo un dicembre sinceramente positivo ok almeno nei primi 15 20 giorni quindi io li sfrutterei appieno poi con giove se stila al sole insomma qui sicuramente un qualcosa di molto molto favorevole c'è ok quindi una comunicazione del denaro in arrivo non vince l'enalotto però qui c'è un qualcosa che effettivamente si si muove vediamo dicembre 2022 capricorno guarda qui quindi c'è proprio un pensiero un atteggiamento che cambia e che cambia in meglio quindi come dire un qualcosa che arriva che può veramente ridonarci riportarci anche un certo buon umore io qui continuo a vedere lo scrivere l'imparare il leggere quindi una comunicazione qui c'è un qualcuno che noterà il tuo valore che noterà ciò che sai ciò che sai fare magari un lavoro se non si tratta di lavoro è un qualcosa diciamo che tu dovrai fare in team in gruppo con qualcun altro ma qualcuno si accorgerà vedrà quello che tu quello che tu sai fare o quello che tu hai fatto andiamo a vedere voglio tirarti un'altra carta capricorno un mese molto molto favorevole sappilo sappilo sfruttare al meglio e mi raccomando I am intelligent sono intelligente il numero 25 quindi vediamo un pochino se ti richiama qualcosa questo numero 25 vedi io ho una grande abilità di prendere e processare informazioni sia a livello conscio che inconscio la tua curiosità è senza fine e il tuo desiderio di andare a fondo nelle cose ti porterà ad un enorme diciamo così conoscenza del mondo poi parole si ritorna qui a questo insegnante a questo studente vedete di che cosa ti hanno parlato queste carte e fallo sapere pure a me giù nei commenti mi raccomando va bene capricorno un bacione grande 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 buon compleanno se compi gli anni in dicembre e noi ci vediamo sempre qua al prossimo video ciao eccoci qua vi lascio ai miei vino eccoci qua eccoci qua